La maggior parte di noi trascorre il proprio tempo nel mondo visibile. Invece una delle caratteristiche distintive dello sciamano è che lui o lei trascorre buona parte del suo tempo nel mondo invisibile. La gente comune lo visita solo quando sogna o quando muore. Quindi, come sciamano, ho imparato a trascorrere quanto più tempo possibile nel mondo invisibile, attraverso la meditazione, la preghiera, le cerimonie e sognando ad occhi aperti.